Quest'anno per Halloween che Doce vi propone 4 idee per donuts di Halloween che renderanno le solite ciambelle spaventosissime. Con queste donuts Mummia, Dracula, Frankenstein e zucca di Halloween sorprenderete i vostri amici e parenti. Avrete bisogno di normali donuts, cioccolato fondente, cioccolato bianco, colori alimentari e zucchero fondente. Allora, iniziamo! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!